Per la pagina degli spettacoli Grande Danza al Teatro Curci di Barletta con l'interpretazione di Mauro De Candia fra Euripide e Stravinsky. Costantino Foschini. Il percorso internazionale di Mauro De Candia attraverso l'Europa, da Monte Carlo dove ha studiato, alla Germania dove ha trovato la sua consacrazione di primo ballerino, riparte pur sempre dalla sua città natale, Barletta, e qui al Teatro Curci Mauro De Candia, interprete e coreografo, ha presentato il suo ultimo spettacolo che mantiene tutte le aspettative di un titolo molto intrigante, Sacre Medea, Deliri del Corpo. Non si tratta di un corpo di danza, ma del corpo del danzatore, un solo protagonista nelle mille sfaccettature del balletto che moltiplicano lo spazio e riescono a dare persino forma, tracciabilità alla psicologia. Si può parlare di pantomima danzata, di cui l'accenno al teatro greco, alla Medea di Euripide, doppiata con la musica della Sagra della Primavera di Stravinsky. In pochi passi un vertiginoso salto di secoli, una esplosione della follia dell'anima, ma anche eros e grottesco. E dal teatro classico si mutua la catarsi finale sotto le spoglie della quiete, del corpo e del movimento.